Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Appena avuta la notizia sono subito sceso per fare un video. La quinta speciale della Dakar 2022 è stata vinta da Danilo Petrucci. Allora non ci sono dubbi sulla vittoria di Danilo Petrucci. Primo, diciamo fisicamente, è arrivato Toby Price, l'australiano, ma poi ha preso sei minuti di penalizzazione per un eccesso di velocità. Petrucci è arrivato al traguardo con poco più di quattro minuti di ritardo da Toby Price per cui naturalmente ha vinto la tappa. Funziona così, le regole sono queste, non è che ci sono interpretazioni. Questa è una gara che tiene conto naturalmente delle penalizzazioni che si prendono durante il tragitto. È una gara anche di orientamento, è una gara in cui si devono rispettare i limiti di velocità per cui come non c'è un dubbio che la terza gara, la terza speciale, non è arrivato terzo Danilo Petrucci perché ha preso una penalizzazione. Anche qui non ci sono dubbi che la speciale è stata vinta da Danilo Petrucci. Ora, questo evento è qualcosa di una portata enorme, è qualcosa di incredibile. Innanzitutto perché Danilo Petrucci è il primo pilota di MotoGP che vince una speciale nella storia di tutta la Dakar. Secondo, perché finalmente abbiamo un pilota di una nuova generazione, nel senso che Petrucci è nato nel 90, ha appena 32 anni, ha ancora 10 anni buoni di carriera davanti a sé. Non ha grandi esperienze, non è un pilota che viene da questo, ha un'esperienza diversa. Ora noi sappiamo che tutti i piloti della MotoGP hanno anche competenza nel fuoristrada, questo ormai è risaputo, lo sanno tutti. Non vinceresti nulla se tu non avessi anche capacità fuoristradistiche nella MotoGP. Ma arrivare e vincere alla prima Dakar vincere una speciale e comunque aver passato fino a questo punto, essere arrivato alla quinta speciale da assoluto protagonista perché è sempre stato nelle prime posizioni nonostante i problemi tecnici che ha avuto. Non è un pilota maturo per quanto riguarda questo tipo di competizioni, per quanto riguarda la navigazione, lo dice lui stesso, ancora non ha pieno controllo della capacità di lettura delle note, la capacità di orientarsi. Ma quello che ha fatto vedere, questi risultati sono qualcosa di incredibile. Io ci tengo a sottolineare che queste persone, cioè i primi 10 che arrivano alla Dakar, sono dei mostri, cioè sono dei piloti straordinari, sono qualcosa di fuori, cioè sono degli alieni questi qua. È qualcosa di incredibile che un ragazzo, seppur seppur un pilota di MotoGP sia riuscito ad arrivare a raccogliere questi risultati. Ora lui ha vinto con una KTM, naturalmente questo ci fa anche un... cioè dobbiamo anche ricordare Fabrizio Meoni che purtroppo ci ha lasciato proprio durante la Dakar nel 2005, è morto proprio correndo questa competizione con gli stessi colori, anche Fabrizio Meoni correva per KTM, quindi un pensiero per Fabrizio. Noi ci auguriamo che Danilo Petrucci continui con questa disciplina, cioè per noi è una grande speranza. Però vorrei anche lanciare un monito per quanto riguarda i mass media, ma i mass media quelli importanti, non YouTube, non Facebook. Noi naturalmente per quello che abbiamo potuto, e qui anche vorrei ringraziare Rally Pover, Tiziano, che sta documentando la Dakar come pilota, quindi c'è un ragazzo che sta facendo veramente dei sacrifici enormi e sta facendo un lavoro incredibile. Quello che si poteva fare tramite i social media è stato fatto, ora è urge assolutamente che i mass media come la televisione, cioè quelli importanti, parlino di questo che è un evento incredibile, un qualcosa che non accadeva. L'ultimo punto è stato Botturi che è riuscito, mi sembra, nel 2013 ad arrivare, ecco, sul podio di una speciale, ma non a vincerla, quindi dobbiamo andare ancora più indietro per trovare un italiano che avesse vinto una speciale. Per cui io spero che la televisione dia risalto a questo che è un evento incredibile e che sia, e che questo sia anche da spinta veramente per il mercato, il mercato delle due ruote in generale, che questo sia veramente il motore per fare, insomma, riaccendere la passione per la moto in generale e poi per queste che sono delle gare bellissime, questi ride, insomma, di lunga percorrenza. Grazie per aver visto questo video e, come sempre, se volete vi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!